Bari-Napoli L'ho conosciuta per la prima volta in tardi età, però meglio tardi che mai, e sono stato accorto così bene che mi ero prefissato, ci eravamo promessi che dovevamo aprire a Bari. Vedete l'accoglienza che mi ha riservato il popolo di Bari è qualcosa di indescrivibile. Io mi emoziono perché poi ogni volta che c'è un'apertura c'è qualcosa di incredibile. Nonostante io non sia un barese, nonostante oggi ci siano altre aperture di altri locali, di concittadini, quindi per me questa è una soddisfazione ancora più grossa. Quale posto migliore che la città vecchia potevamo lanciare questo nuovo format, la pizza Brascio, è una pizza che prende il nome appunto da una pizza fatta con ragù e la braciola. Ora noi ci troviamo di fronte una sfida, loro aprono in tutto il mondo e sono venuti ad aprire sulla città di Bari. Perché no poter portare la pizza di Bari a Napoli? Due cucine diverse ma entrame apprezzatissime dai baresi che per l'occasione hanno atteso in una lunga fila prima di poter gustare le novità culinarie. Al giorno d'oggi che facciamo? Assaggiamo il prodotto in modo tale che se ne vale la pena ci torneremo. Dire è più vero il personaggio e quindi per provare comunque la pizza di un personaggio abbastanza famoso sui social media. È perché è un personaggio, sui social lo seguo da tempo e mi fa ridere, è molto simpatico. Soprattutto il suo modo di fare, è come noi, è come le persone, è uno di noi, esatto, le persone le accoglie, le apprezza. Perché è gratissimo. Sapevate che era buona? Sì, sì, sì. Vediamo com'è. Sì.